Questo è ciò che si può osservare a seguito dell'aggiunta di un accesso di soluzione di idrossido di sodio a una soluzione di solfato di rame. Si noterà una precipitazione da prima di idrossido di rame 2, blu, per il riscaldamento e si decompone a ossido di rame 2, nero. Grazie a tutti.